Un fratellino per Topolina Quel giorno tutti erano molto indaffarati a casa di Topolina. La nonna stava preparando torte e biscotti e dalla cucina arrivava un profumo invitante. Nonna, disse Topolina, leggiamo una delle storie del mio libro? Mi dispiace Topolina, disse la nonna acarrezzandole la testa. Oggi ho molto da fare, ma credo proprio che il nonno abbia bisogno del tuo aiuto. Perché non vai sopra e glielo chiedi? Nella camera più piccola della casa il nonno stava dipingendo le pareti di uno splendido azzurro cielo. Oh, eccoti, avevo proprio bisogno di te, disse il nonno. Vieni e aiutami a dare gli ultimi ritocchi. Topolina afferrò il pennello e lo immerse in una speciale vernice dorata. Insieme decorarono il soffitto con stelle di tutte le dimensioni. Un cielo stellato, esclamò Topolina, felice. Proprio come nella mia camera. Proprio così, rispose il nonno con un sorriso. Io e tuo papà abbiamo decorato il soffitto della tua camera poco prima che tu nascessi. Poi Topolina e il nonno salirono in soffitta, dove tutto era coperto di ragnatele. E qui Topolina aiutò il nonno a spolverare una culla. Che letto minuscolo, disse Topolina. Questa era la tua culla, spiegò il nonno. Topolina non credeva proprio che quello un tempo fosse stato il suo letto. Era troppo piccolo. Lei non ci sarebbe mai stata lì dentro. Quando Topolina tornò in cucina, la nonna la invitò a fare una passeggiata. Lasciarono le torte a raffreddare e si avviarono verso il bosco. Abbiamo delle commissioni da fare, le disse la nonna. Una volta nel bosco, bussarono alla porta di Scoiattolina. Buon pomeriggio, disse Scoiattolina vedendo Topolina e la nonna. Ho trovato proprio quello che fa per voi. Scoiattolina salì veloce sul suo albero e tornò con una piccola vasca da bagno fatta con un guscio di ghianda. Ma che vasca da bagno minuscola, esclamò Topolina. Chi ci entra lì dentro? Poi Topolina e la nonna fecero visita a Passerotto. Siete arrivate proprio al momento giusto, disse Passerotto vedendole arrivare. Ho appena finito la vostra trapunta. Passerotto tirò fuori una trapunta piccolissima, imbottita con morbide piume. Che coperta minuscola, pensò Topolina. Poi la ferrò delicatamente e la piegò e se la infilò sotto il braccio. Una volta a casa, il nonno e la nonna ammirarono soddisfatti il frutto delle loro fatiche. La cucina era piena di dolci deliziosi. L'ingresso era decorato con palloncini e striscioni e al piano di sopra la camera più piccola della casa era incantevole. Pettirosso venne a dare una mano con gli ultimi preparativi e volò fino al soffitto per lasciare un messaggio speciale. Ma per chi è tutto questo? Domandò Topolina. Mamma e papà stanno per arrivare, disse la nonna, e porteranno una sorpresa davvero speciale. Finalmente era tutto pronto. Coniglietto giunse con un regalo, i vestitini più piccoli che Topolina avesse mai visto. Sei emozionata, Topolina? chiese Coniglietto. Ma Topolina era troppo agitata per parlare. All'improvviso la porta si aprì ed ecco arrivare mamma e papà con una piccola cesta. Topolina si precipitò verso di loro. Saluta Topolina, è il tuo fratellino. Topolina guardò il fratellino. Era piccolo e paffuto e aveva le zampe più piccole che avesse mai visto. Topolina sapeva che d'ora in poi avrebbe dovuto proteggerlo e prendersi cura di lui perché era così piccolo. Allungando la mano dietro di sé, Topolina mostrò il suo regalo. Questo è Coniglietto rosa, sussurrò al fratellino. Si prenderà cura di te mentre dormi. Mamma e papà furono molto orgogliosi di Topolina. Grazie Topolina, disse papà. Il tuo fratellino ti vuole già molto bene. E per dimostrartelo ti ha portato un morbido orsetto azzurro tutto per te. Poi mamma e papà dissero che visto che era la sorella maggiore, Topolina doveva scegliere il nome per suo fratello. Topolina ci pensò per un po'. Penso che il nome giusto sarebbe Topino. Tutti sollevarono il bicchiere. Benvenuto a casa Topino. Fine Benvenuto a casa Topino. Benvenuto a casa Topino. Per